Ma voi lo sapete in casa di chi siete? Erano in due qui. Boyd non è l'unico ad essere stato rapito. La ragazza è Oliver Morgan. Justin ci usciva quando viveva qui. Possiamo diramare l'allarme e farli cercare per tutta la città. No, dobbiamo riportarlo salvo a casa e lo faremo da soli. In prima visione Italia 1. Tanto ce la darai la combinazione. Ne rimane un minuto, forse meno per colpa del bambino. Non te lo chiederò di nuovo. Chicago PD, lunedì 21 e 10.